Il Natale è ormai alle porte, in queste ore le ultime corse tra negozi e mercatini per terminare i preparativi e soprattutto per finire di acquistare i regali. Un po' un pochettino in ritardo, ancora due o tre per i genitori, i parenti, poi a posto. Quindi il mio adesso non lo posso dire perché è di uno di questi miei amici, però ad esempio ai miei ho regalato delle candele o alle mie nonne le coperte. I regali ci ha già pensato? Molto poco, perché i regali ce li facciamo durante l'anno, non serve fare i regali a Natale. Per i regali ci ha già pensato Santa Lucia, quindi per Natale saltiamo. Ma Natale è soprattutto casa, famiglia e amici. Come si preparano a festeggiare i cremonesi? Famiglia, si cerca di mangiare poco perché se no si mette sulla pancia. Siamo quattro fratelli, ognuno porta le sue cose e abbiamo praticamente quasi tutto pronto. Cosa prevede il menù di Natale nella vostra famiglia? Allora pesce per la vigilia e il giorno di Natale, ravioli in brodo, brasato e altre cose che vedremo. Faremo una bella cena con tortelli di zucca che sono un po' mantovani, un po' cremonesi, c'è sempre la disputa, marubini e cotechino. Cosa possiamo volere di più? Cucina la mamma, quindi ravioli, pesce, salmone, capesante, un po' di tutto. Tre giorni di mangiate. Beh, il menù sarà il timballo perché io sono pugnese e quindi da noi in queste feste si fa il timballo e poi ci sono le cartellate, ci sono le pizze fritte. Infine c'è chi sceglie Cremona per una gita fuori porto per fare acquisti e chi invece si ferma sotto il torrazzo per lavorare, agliettando le feste con buona musica. Miglia sicuramente, con amici e niente, siamo di Trento, ci siamo concessi anche un giro a Cremona a fare gli ultimi regali e a visitare un po' la città. Faccio anche opera lirica e quindi essere nella città di Stradivari direi che è proprio un onore. Cremona a fare gli ultimi regali e quindi essere nella città di Stradivari direi che è un po' la città.